Kiyotex è l'innovativo sistema tecnologico ed ecologico brevettato ALC che rivoluziona la lavorazione del soletto di pulizia e può essere utilizzato per svariate lavorazioni di pelletteria. La tecnologia brevettata Kiyotex tende alla completa eliminazione di prodotti incollanti nocivi nel settore calzaturiero e rispetta i principi del protocollo di Kyoto perché riduce sensibilmente le emissioni in atmosfera. Il sistema si basa sull'accoppiamento autodimensionato di un nuovo film adesivo privo di solvente e strutturale attraverso l'utilizzo di due apparecchiature specifiche, Kiyo 100 e Kiyo 400. I due macchinari, che differiscono tra loro per capacità produttiva, sono conformi alla normativa CE, Patent Pending. Dall'accoppiamento dei nastri complementari nasce un film transfert ad elevate prestazioni. La gamma dei nastri è contraddistinta dal colore dei mandrini a seconda delle superfici da adesivizzare, pelli, schiume, tessuti, vernici speciali. Il sistema Kiyotex nasce dalla ricerca ALC per offrire soluzioni sicure ed affidabili ai produttori di scarpe di tutto il mondo, assicurando loro molteplici vantaggi. Semplicità di utilizzo, perché non richiede una preparazione tecnica particolare da parte dell'operatore ed elimina automaticamente scarti ed errori. Efficienza, perché permette di preparare il soletto a bordolinea esternamente in tempi diversi, consentendo elevata produttività e migliorando la gestione logica. Ottimizzazione delle risorse, perché permette di eliminare inefficienze e costi, non sempre quantificabili, riducendo la manualità e consentendo lo stoccaggio di soletti preincollati. Efficacia, perché semplifica e velocizza l'inserimento del soletto eliminando la fase di pulizia. Qualità del risultato, perché il fissaggio definitivo è più efficace del sistema tradizionale, in quanto elimina grumi e irregolarità di spalmatura e, grazie alla sua conformabilità, aderisce su ogni superficie. Inoltre, non richiede successivi interventi di pulizia e di correzione di eventuali difettosità. Versatilità, perché consente al designer di ideare forme sempre nuove, assicurando per ognuna di esse bordi precisi ed esenti da sbavature. Inoltre, il sistema Chiyotex garantisce il rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo. Rispetto per l'ambiente, perché gli adesivi sono 100% solidi, senza solventi, e quindi non emettono esalazioni nocive, consentendo inoltre l'eliminazione di postazioni fisse con cappi aspiranti. Sicurezza per la salute dei lavoratori, perché elimina sostanze nocive nell'ambiente e non costringe l'operatore ad assumere posizioni scomode e innaturali durante la lavorazione, diventando così una garanzia contro malattie professionali, derivanti dalla respirazione, dalle allergie, dall'errata postura delle mani. Sicurezza per la salute dei consumatori, perché i soletti applicati con Chiyotex sono traspiranti e anallergici. Chiyotex. L'innovazione tecnologica italiana, apprezzata dai produttori e dai consumatori di tutto il mondo. Grazie a tutti.